Ormai è deciso anche a Licata case abusive buttate giù dalle ruspe che presto faranno il loro ingresso anche in città dove è stata già resa pubblica la lista delle 11 costruzioni da abbattere. La notizia ha scatenato la furia dei proprietari delle strutture interessate degli abbattimenti che si sono costituiti in un comitato per la difesa della casa e che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Angelo Cambiano. Ma oggi i componenti del comitato insorgono contro il primo cittadino e lo invitano a rassegnare le dimissioni. Il comitato in un comunicato stampa diffuso oggi sottolinea il comportamento incoerente del primo cittadino che all'indomani dell'incontro avuto col comitato assicurandoci scrivono che avrebbe fatto di tutto per tutelare il patrimonio immobiliare abusivo per recuperarlo alla legalità dando ad ogni costruzione dove fosse possibile la dichiarazione di pubblica utilità. All'indomani si è recato in procura a firmare un protocollo definito dallo stesso comitato capestro per i cittadini. In questo protocollo si legge nel comunicato Cambiano si impegnava in nome per conto della procura anticipando nelle spese a demolire le costruzioni abusive e accusa il sindaco di essere stati presi in giro. L'amministrazione Balsamo si continua a leggere nel comunicato. A suo tempo aveva portato in consiglio comunale una delibera con la quale le case venivano dichiarate di pubblica utilità anche con la vendita. Secondo il comitato oggi il sindaco Cambiano ha dato seguito ad un ordine della procura senza nemmeno documentarsi. La legge gli dava 30 giorni per farlo. Tale scelta scrive il comitato porterà la perdita di un patrimonio immobiliare del valore di 30 milioni di euro, costo che dovranno sopportare i cittadini per abbattere le case. Il comitato chiede a gran voce le dimissioni del sindaco Angelo Cambiano in quanto scrivono ha tradito la fiducia di circa 9.000 alicatesi che lo hanno votato su un programma di continuità e che lui non sta portando avanti e non rappresenta. Il comitato invita altresì il consiglio comunale a dichiarare di pubblica utilità le costruzioni abusive che oggi sono perfettamente integrate nel tessuto urbano e nel territorio. Finalità pubblica che può essere la vendita, l'utilizzo di case di prima accoglienza in caso di calamità naturale, protezione civile, sede di associazione e quant'altro. Secondo il comitato per la difesa della casa non è giusto oggi abbattere un grande patrimonio immobiliare di grande valore addossandone il costo a tutti i cittadini licatesi e dalle generazioni future. È intenzione del comitato far valere i propri diritti nelle sedi competenti opportune.